Buonasera a tutti. Do la parola al segretario comunale dottoressa Deborah Foderaghi che ci assiste per l'appello. Il punto successivo sono le variazioni di bilancio. Credo che possiamo affrontarli in punti separati, assieme. Quindi se l'Assemblea concorda con le variazioni di bilancio 2023-2025 relativamente all'esercizio 2023, poi metteremo in votazione separata. Il bilancio consolidato è un adempimento obbligatorio, formale per i comuni della nostra dimensione in su. È un bilancio che ha le caratteristiche civilistiche, consolida i bilanci delle due società partecipate nel perimetro di consolidamento. Quindi non è molto diverso, avendo una quota azionaria molto piccola, non è molto diverso dal bilancio del Comune se non riclassificato in stile civilistico. Diamo la parola all'assessore che ci illustra un po' questo punto. Prego, assessore. Sì, grazie. Sul bilancio consolidato in effetti c'è poco da dire. Perché il consolidato come criterio o metodo di consolidamento estratto in qualche modo da quello che si utilizza per il privato, quindi dalle regole del codice civile, il metodo proporzionale. Questo vuol dire che sostanzialmente sono stati presi i bilanci delle due partecipate, che sono Coinger ed Alfa, del 2022, sono stati presi con la percentuale di partecipazione del Comune che è rispettivamente del 6,95%, dello 0,66%. Quindi il risultato di questa operazione è molto simile, se non quasi identico, a quello che è il conto del patrimonio del Comune di Vedano che abbiamo già visto quando è stato approvato il 2022. Si discosta veramente di poco, proprio perché le percentuali delle partecipate sono molto basse. Questo è un esercizio, un documento che serve più che altro per quei comuni un po' più grossi del nostro, che hanno delle partecipate più importanti, alle quali fanno svolgere dei servizi. E questo documento diventa utile perché poi da qui si capisce qual è il vero risultato dell'esercizio. Nel nostro caso il discostamento rispetto a quello che è il conto del patrimonio del consuntivo che abbiamo già approvato è pressoché insignificante. Il documento si compone di una relazione sulla gestione e nota integrativa che è un po' una parte descrittiva che richiama una serie di norme del testo unico ed altre per spiegare che cosa è stato fatto, quali sono i principi di consolidamento e che cosa prevede la norma. Qualche tabella che sintetizza un po' le voci più significative, ma come vi dicevo poi in sostanza si riassume tutto in quel documento che si chiama conto economico e stato patrimoniale consolidato che raccoglie la sommatoria dei numeri del Comune e in proporzione dei numeri delle due società. Questo è quello che si può dire del bilancio consolidato. Mentre per quanto riguarda le variazioni che è il secondo punto all'ordine del giorno, le variazioni che si portano oggi in approvazione del Consiglio è essenzialmente la voce più significativa, è l'introduzione del contributo della provincia per la viabilità comunale. Quindi un contributo che è stato riconosciuto ed è arrivato nelle casse comunali dalla provincia per la viabilità. 40.000 euro quindi di maggiore entrate che sono poi state destinate per il miglioramento della sicurezza di via Venegono, della strada provinciale, integrato anche da qualche minore spesa perché il 40.000 di contributo della provincia è riconosciuto per un intervento di 80.000, cioè coprono il 50% della spesa. Questa è stata la necessità della variazione per gli investimenti. Per quanto riguarda invece la parte in spesa corrente, non sono tanto significative perché più che altro sono stati degli aggiustamenti, dei piccoli aggiustamenti di spesa come minori e maggiori spese, non sono stati istituiti né nuovi progetti, quindi nuovi capitoli di spesa. Per darvi un'idea, stiamo parlando di minore spese degli stipendi di uffici tributi per andarlo ad imputare ad una maggiore spesa per stipendi del servizio ragioneria, quindi per farvi capire che si tratta di giro i conti, insomma è andato da una parte ad un'altra, ma la sostanza non è cambiata. Hanno utilizzato quest'occasione gli uffici per mettere a posto gli ultimi conti. Ovviamente in questa occasione non si è adoperato l'avanzo di amministrazione, ma si è intervenuti sui capitoli esistenti, perché l'occasione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è già passata, siccome ricordate l'ultimo consiglio abbiamo fatto l'assestamento che ha visto come protagoniste diverse variazioni con l'utilizzo dell'avanzo. Questa è un po' la sintesi di quello che si va ad approvare questa sera. Grazie Assessore per la rapida illustrazione dei due punti. Adesso se c'è qualche intervento su entrambi i punti diamo la parola ai consiglieri. Consigliere Tizi, prego. Grazie a tutti. 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 di Vedano è un po' un imprevisto che va ad aggiungere ulteriore lavoro per l'ufficio tecnico, quindi bisogna programmare le opere e il cimitero nel prossimo bilancio troverà una giusta collocazione. Se ci sono altri interventi, altrimenti possiamo volgere verso le dichiarazioni di voto. Il regolamento prevede che i capigruppi hanno facoltà di, se non basta che mi fate cenno e non tirate troppo i microfoni. Non funziona, non so neanche se funziona. Funziona forse, sì, prima di tirarlo funziona. Perfetto, no, comunque ne abbiamo parlato anche in commissione, la variazione è quella che ha presentato l'assessore, il bilancio consolidato è un adempimento necessario, il nostro voto è favorevole. L'altro gruppo rinuncia alla dichiarazione di voto, va bene, possiamo mettere in votazione prima l'approvazione del bilancio consolidato relativamente all'esercizio 2022, favorevoli, contrari, 3, astenuti, nessuno. Votiamo le modiate esecutività, favorevoli, contrari, 3, astenuti, nessuno. Mettiamo in votazione le variazioni del bilancio 2023-205 relativamente all'esercizio 2023 come agli atti e sommariamente illustrate dall'assessore, favorevoli, contrari, 3, astenuti, nessuno. Anche qui l'immediata esecutività, favorevoli, contrari, 3, astenuti, nessuno. Bene, allora adesso intanto che prepariamo, passiamo al terzo punto. Il terzo punto all'ordine del giorno è il regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile e mettiamo in approvazione questa modifica del regolamento, anzi lo riscriviamo da capo a fondo, viene annullato il precedente, che va a riprendere alcune novità che sono emersi nel corso degli anni e parte da uno schema tipo recentemente proprio messo a punto da Regione Lombardia. Ne avevamo già discusso prima dell'estate in commissione un regolamento che introduceva alcuni elementi interessanti per il nostro gruppo di protezione civile come il periodo di prova del volontario. Siamo contenti che questa novità sia stata anche ripresa dal nuovo regolamento regionale che introduce anche alcune modifiche importanti che adesso tenterò di illustrarvi. L'ho sintetizzato un po', poi in commissione l'abbiamo visto quasi interamente, ce l'avete tagliato per i dettagli. Adesso vi illustrerò una sintesi, vi anticipo che c'è un emendamento tecnico, come abbiamo detto in commissione, anzi sono tre gli emendamenti tecnici che tengono conto del fatto di una recente novità proprio relativamente alla parte comunale che è relativa al ROC che adesso ha cambiato nome e viene inserita all'interno del regolamento comunale secondo la più recente DGR che è del 2022, non più del 2007. Comunque anche lì un adempimento abbastanza formale che dopo magari vediamo in dettaglio. Iniziamo dall'articolo 2 che riguarda gli adempimenti del sindaco e ripassiamo, questo è da legge nazionale autorità territoriale di protezione civile, è titolare dell'azione amministrativa del gruppo, questo è proprio specificato da questo regolamento tipo, è il legale rappresentante del gruppo comunale di protezione civile, può adottare ordinanze contingibili o d'urgenza, questo lo ricorda ma è una legge, è parte del testo unico, può disporre adeguata comunicazione, anzi il titolare poi all'interno del COC della comunicazione coordina le attività di assistenza alla popolazione locale sentendo quelli che sono le informazioni di regione e prefettura. Gli obiettivi del gruppo vengono specificati, quindi perseguimento senza scopo di lucro, di finità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il gruppo deve tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivati da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'uomo. Le attività del gruppo sono, allora, deve muoversi assolutamente di insicurezza, è quel regolamento tipo citta, il decreto legislativo 81, quindi che poi quello riguarda tutti i lavoratori, lo mette all'inizio, lo mette per primo proprio perché il gruppo di protezione civile deve innanzitutto proteggere se stesso. E poi quando viene attivato deve occuparsi di eventi emergenziali di protezione civile, attività ed eventi a impatto locale, attività di prevenzione dei rischi a supporto della pianificazione di emergenza, attività addestrative, formative, funzionali dell'attività di protezione civile, attività di informazione alla popolazione e questa è la novità introdotta dal regolamento regionale, attività ed iniziative di raccolta fondi compatibili con le disposizioni in materia, quindi questa è già una piccola novità che viene introdotta. L'attività del gruppo poi viene registrata a cura del comune in alcuni registri, che è il registro dei volontari, che prima non era formalizzato, era sul DBVOL che è un database regionale, invece adesso viene formalizzato il registro dei volontari, il libro delle adunanze delle deliberazioni assembleari e il libro dell'adunanze del consiglio direttivo, che poi vediamo è l'organo che viene formalizzato da questo nuovo regolamento. Specifica i requisiti di ammissione al gruppo e poi anche quelli di esclusione e di limiti di partecipazione, che poi magari vi risparmierò, però tutti i cittadini e anche i cittadini non comunitari, purché regolarmente soggiornanti, inserisce anche questa novità, ne abbiamo discusso in commissione, anche i minorenni si possono iscrivere al gruppo e partecipano, tranne che nelle votazioni dell'assemblea del gruppo a cui invece partecipa i propri genitori, che è un po' la novità. I minorenni a partire da 14 anni, è parte dell'emendamento tecnico perché in commissione abbiamo discusso un po', è giusto per fissarlo lì, non che ci sia la corsa a iscrivere i bambini al gruppo comunale, però ci sembrava giusto fissare un'età tra un discrimine, tra l'altro tra la protezione civile junior, che era già una realtà nel nostro comune e poi invece la titolarità proprio all'interno della protezione civile. In realtà poi nel regolamento è scritto che non sono effettivi, cioè i volontari minorenni affiancano il lavoro degli altri ma non lo possono fare da solo. Possono iscriversi, viene specificato anche i dipendenti comunali salvo incompatibilità e i volontari che assumono una delle cariche previste dal regolamento devono rilasciare normalmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali. Normative precedenti invece questo neppimento era per tutti i membri del gruppo. La missione al gruppo è subordinata anche al previo accertamento di questi requisiti, essere fisicamente idoni e essere disponibili a partecipare all'attività di addestramento. Ecco qui, per la parte del gruppo viene sottolineato, bisogna essere anche attivi, bisogna partecipare, poi lo vedrete in altri articoli. Per essere impiegato bisogna aver partecipato e superato con esito positivo i corsi di formazione e poi la qualifica di effettivi la si ottiene, prima erano operativi, adesso il regolamento regionale li chiama effettivi, a seguito non solo del corso ma di aver superato i sei mesi di prova. Questo era già una richiesta che veniva dai volontari di protezione civile, era stata anche raccolta a livello regionale, credo da Lanci Lombardia ed è adesso uscito il regolamento che stabilisce proprio questi mesi di prova che servono a vedere se i volontari sono veramente motivati a proseguire perché magari sono iscritti e non sapevano com'era la realtà della protezione civile. I volontari hanno, vengono specificati i diritti, quindi attività senza fini di lucro neanche indiretto, il rimborso spese se probabilmente autorizzate, la copertura assicurativa e deve essere data a prova al volontario, i controlli sanitari secondo legge e la partecipazione a programmi formativi. I doveri sono la reperibilità in caso di emergenza, questo proprio perché tutto il sistema regionale conta sui volontari, non sono dei volontari qualsiasi, sono dei volontari che dopo aver operato la scelta, il corso di formazione si deve poter contare su di loro in caso di emergenza, devono conservare tutti i materiali e i dispositivi di sicurezza che vengono loro affidati, partecipare alle riunioni dell'assemblea del gruppo, ai corsi di addestramento, 50% viene specificato almeno al 50% delle iniziative del gruppo e i volontari devono prendersi massima cura della propria salute e sicurezza per quanto vi dicevo prima. Ecco qui che vengono specificati gli organi del gruppo comunale, quindi c'è un'assemblea dei volontari iscritti al gruppo, poi lo vediamo, deve tenersi almeno tre volte all'anno, viene definito questo consiglio direttivo con compiti direzione e coordinamento e un coordinatore operativo. Il coordinatore c'era già, adesso viene chiamato coordinatore operativo e viene sottolineato che il gruppo deve avere un'organizzazione democratica all'interno. Non che non vi fosse, il coordinatore veniva in qualche modo indicato al sindaco dopo un'assemblea del gruppo, però questa procedura non era definita come la vedete adesso, soprattutto non esisteva il consiglio direttivo, se non di fatto un gruppo rispetto ai volontari che facevano questo lavoro. Ecco qui delle tre volte all'anno in cui si deve radunare l'assemblea, ne è valida col 50% più uno dei volontari effettivi, i volontari possono farsi rappresentare mediante delega ma non più di una e poi sono gli argomenti per cui si convoca l'assemblea, quindi elegge il consiglio direttivo, elegge e revoca eventualmente il coordinatore operativo, elegge e revoca il vice coordinatore e ogni altro argomento demandato all'assemblea ordinaria, ancora la legge non specifica. E poi la proposta di programma è predisposta dal coordinatore operativo, quindi questo dà forza ai volontari proprio di approvare e entrare nel merito del programma delle attività annuali. Il consiglio direttivo, ecco a Vedano l'abbiamo scelto, snello, costituito da tre componenti, definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del gruppo, che poi vengono sottoposte all'assemblea, collabora con il Comune della Stradura Musica del piano di protezione civile, quindi l'attività più importante del gruppo, definisce proposte di programma per la formazione e l'addestramento dei volontari con corsi specifichi e poi programma la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione, anche mediante l'invocazione di quanto previsto dei piani comunali. Qui a Vedano siamo avanti, però siamo contenti che anche la norma regionale consolidi e formalizzi questa parte che è molto importante, sia con le scuole che con la popolazione. Definisce i compiti del coordinatore operativo che rimane in carica a cinque anni insieme al mandato del sindaco, il ruolo di coordinatore operativo è incompatibile con quello di amministrazione locale e di dipendente comunale, il coordinatore operativo individua i capi squadra e i vice capi squadra e trasmette al sindaco entro il 31 marzo dell'anno successivo la relazione dettagliata e l'attività svolta. Anche qui veniva fatta informalmente trasmettendo i requisiti di mantenimento dei diritti all'interno del DBVOL, all'interno del gruppo di protezione civile, praticamente qui viene formalizzato da regione un'attività che è già veniva fatta e poi l'assemblea elege anche un suo vice coordinatore vicario che lo stituisce in caso di impossibilità. veniamo ai due emendamenti tecnici rispetto al regolamento che trovate agli atti, allora vi dicevamo che all'articolo 5,2 viene aggiunta la frase a partire dai 14 anni per cui la frase emendata, il comma emendato lo vedete lì per intero, all'articolo 13 viene assoluto il comma 1 come lo vedete lì, quindi con tutti i riferimenti di legge attuali che sono quelli della DGR 7 novembre 2022, in cui il sindaco deve individuare un responsabile di protezione civile con specifica delega a cui affidare compiti operativi in fase di normalità, in fase di emergenza. quindi c'è questo cambiamento da ROC nella DGR del 2003, si chiamava ROC quindi referente operativo comunale con responsabile di protezione civile che può essere individuato tra gli amministratori o tra i dipendenti comunali, noi lo faremo coincidere con la delega alla protezione civile che è detenuta adesso dal vice sindaco. Bene, quindi adesso operativo, questa è l'illustrazione del regolamento, metteremo prima in votazione gli emendamenti tecnici con una delibera apposita e poi metteremo in votazione il regolamento emendato come ho illustrato. Adesso io mi fermo e do la parola a voi per eventuali osservazioni. Prego. Consigliere Conti. Buonasera a tutti, come anticipato dal sindaco in commissione lo abbiamo letto e discusso nel dettaglio. Abbiamo anche l'età a partire dai 14 anni, l'abbiamo deciso insieme, quindi voteremo a favore sia il regolamento e sia gli emendamenti tecnici. Grazie, sono altri interventi. Consigliere Calò? Sì, qualche osservazione. Innanzitutto fa piacere sapere che alcune buone prassi consolidate nel nostro comune siano state poi recepite all'interno di un regolamento e quindi senz'altro da prassi siano proprio diventate una procedura scritta da seguire, però su questo fortunatamente siamo già avanti e quindi conformi a una normativa che poi andiamo a consolidare e votare questa sera. Senz'altro è positivo dal mio punto di vista la possibilità per i minorenni di partecipare alla protezione civile, se non altro è un elemento per promuovere il senso civico, ragionare sul proprio territorio, quindi lo considero molto positivo, così come anche la previsione di sei mesi di prova, perché come diceva correttamente il sindaco, la protezione civile non è un'associazione così come le altre, ma svolge dei compiti, li abbiamo visti prima abbastanza importanti e sensibili sul territorio, alcuni possono comportare anche particolari rischi, quindi le persone che fortunatamente aderiscono e anche nel nostro comune ce ne sono, sono tante, vanno ringraziate, se non altro e questa può essere un'occasione per il lavoro che fanno ogni anno, dicevo appunto si deve trattare però di persone con la giusta motivazione e consapevolezza che l'impegno che si prendono è abbastanza sostanzioso. Mi ha fatto piacere prima sentir parlare anche della collaborazione con le scuole, anche su questo fortunatamente siamo, come dire, presenti e già conformi, quindi per tutti questi aspetti di carattere positivo, per il lavoro anche che è stato fatto in commissione, che anche dall'intervento di Fabiana considero positivamente, anche il nostro voto sarà chiaramente a favore, sia per gli emendamenti ovviamente che per il regolamento nel suo complesso. Bene, allora possiamo mettere in votazione prima l'emendamento come vi ho illustrato, quindi favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, nessuno e poi il regolamento che avete agli atti è emendato dal regolamento precedente. favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, nessuno, unanimità, non votiamo l'immediata esecutività, il regolamento entrerà in vigore secondo legge al quindicesimo giorno dopo la pubblicazione della propria torta. Bene, l'ultimo punto all'ordine del giorno è la convenzione del piano aderito allo studio tra il Comune di Vedanolona e l'Istituto Silvio Pellico di Vedanolona relativamente agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, che è un po' la novità di quest'anno, erano tanti anni che tentavamo con la dottoressa Masullo di proporre alla scuola un allungamento del piano, viene allungato per la parte normativa, che sostanzialmente cambia pochissimo da un anno all'altro, mentre l'allegato, quello dei progetti viene allegato annualmente. La cosa è interessante perché non c'è così un periodo di scadenza che avevamo colmato con una frasina che dice che rimaneva in vigore fino a quello dopo, però almeno c'è una continuità piena della parte normativa perché ci sono attività che vengono svolte anche d'estate dopo la fine della scuola e comunque in ogni caso emergessero anche delle novità in corso d'anno, per cui l'anno prossimo si può sempre cambiare anche se la validità è prolungata in due anni. Quindi siamo contenti che la scuola abbia recepito questo allungamento che consente una migliore programmazione, una migliore continuità della norma e do però la parola all'assessore alla formazione e educazione scolastica Giorgia Adamo, l'evento evento assistito proprio dalla dottoressa Ammasullo. Adesso recupero se vuoi venire qua o schiaccio il computer, non si può troppo. Grazie. 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 Grazie, scusate. Buonasera. Ecco, arriviamo dunque in tempo di record perché siamo all'interno del mese di settembre quindi la scuola è iniziata da qualche settimana e riusciamo come anticipato sindaco a vedere finalmente questo documento con una durata biennale. Sappiamo che questo documento è un patto tra il comune che ha dei ruoli ben precisi e ringrazio molto per la presenza stasera alla dottoressa Ammasullo che Agliatti è quella che proprio si adopera costantemente per portare a termine questa convenzione diciamo. Questo piano viene svilupparsi da giugno per tutta l'estate con una contrattazione con l'istituto e poi vede la sua approvazione in questa sede. Da una parte il comune, dall'altra l'istituto. L'istituto che si compone dei quattro componenti principali, quindi la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria e la nostra famiglia. E ricordo adesso la dirigente in capo è la dottoressa Carli. La convenzione sostanzialmente si compone dei 28 articoli che quindi rimarranno la parte fissa per il biennio e invece dalle tabelle specifiche che compongono l'offerta formativa e quindi i progetti che andremo a sviluppare durante l'anno. Riporto con piacere il fatto che proprio già si riprenda il diritto allo studio, riprendendo la normativa statale regionale, però è un diritto riconosciuto e deve essere garantito a tutti i ragazzi, a tutti gli alunni e alle loro famiglie. A sottolineare quanto ci si tenga, si sono attivati e affinati nel corso degli anni anche una serie di servizi. Servizi che ovviamente parlano di refezione, di pre e post orario scolastico, di sostegno alle famiglie con un reddito basso, fornitura di libri gratuiti durante la scuola primaria e poi diciamo a bilanciare anche durante la scuola secondaria di primo grado il contributo, ci si aiuta a costituire il contributo dote scuola, quindi l'ufficio è sempre presente. Si tende a evidentemente questa parola integrazione perché si cerca ogni anno e a seconda delle condizioni mutate di agire proprio nell'integrazione degli alunni che magari subentrano da situazioni anche difficili e quindi è un percorso di avvicinamento che si continua a migliorare col tempo. Il piano di offerta formativa comprende diverse aree e le abbiamo viste nell'ultima commissione dello scorso lunedì, adesso alcune vediamo come, ne ho scelte alcune perché un po' perché sono un motivo di continuità e poi all'interno di queste c'è qualche modifica. Come diceva giustamente il sindaco, il vantaggio di avere un piano di offerta formativa biennale dà delle peculiarità, uno tra questi è la continuità per il consiglio comunale che proprio il prossimo mese, cioè la prossima settimana, riprenderà il percorso per le nuove elezioni. Se avessimo dovuto riprendere dopo la seduta del consiglio, affrontare un bando e poi affidarlo e poi procedere con l'insediamento, ecco che i tempi si sarebbero dilatati a svantaggio degli alunni. Il progetto del consiglio dei ragazzi e delle ragazze è proprio per aumentare la partecipazione alla vita collettiva e per dare proprio questo senso di vicinanza con l'attività amministrativa e con le regole complicate del funzionamento. Certo questo è riportato alla realtà di studenti che ricordo sono di quarta e quinta primaria e poi del triennio della scuola secondaria. Poi rimane sempre costante l'attenzione alla raccolta differenziata, alla riduzione dei rifiuti, quindi ricordiamo che abbiamo delle scuole che hanno ottenuto riconoscimento provinciale Green School, pertanto un percorso in continuità con ulteriori annuali step da obiettivi da raggiungere. Proprio oggi si è svolta la manifestazione di Puliamo il Mondo che ovviamente è una di quelle, oltre alla giornata degli alberi, la giornata del verde pulito in cui si ha la partecipazione completa dell'istituto. Ci sono poi altri momenti della vita amministrativa in cui i ragazzi, soprattutto quelli del Consiglio Comunale, sono presenti. Altro tema, quello della sicurezza sia urbana che stradale, continua un percorso che inizia, fa sorridere dirlo, con la scuola dell'infanzia con il patentino del Buon Pedone, continua con il Pedibus e adesso si affinerà anche con quella che era stata la sperimentazione di Bicibus e ci auguriamo che quest'anno trovi una concretizzazione. Anche con le progettazioni del distretto di Tradate abbiamo la possibilità di avvalorare il nostro territorio di ulteriori progettualità. Le ho semplicemente elencate perché poi mi piacerebbe che la dottoressa Masullo entrasse nel merito, parliamo dei diritti dei bambini, del progetto Pippi e del coordinamento pedagogico dagli 0 ai 6 anni. Questi sono solo tre, però tre progetti all'interno dei quali il nostro Paese può appunto si è inserito e può avvalorarsi di utenze esterne per portare avanti situazioni di diversi generi. Ripeto, poi ritorneremo dopo. Abbiamo sempre il supporto, la valorizzazione della pratica sportiva, il coinvolgimento delle varie associazioni. Ecco, uno, come abbiamo notato in Consiglio, uno degli articoli che invece è stato cambiato perché aggiornato alla nuova gestione delle attività manutentive avrà i suoi riflessi anche all'interno di questo piano di offerta. Come sappiamo da luglio è entrato in azione questo Arca Facility Management e quindi per quanto concerne la manutenzione ordinaria e le spese di pulizia, che prima avevano una voce specifica, adesso verranno invece, sono inclusi attraverso questo servizio, del quale ricordiamo sempre c'è un numero verde, c'è un numero WhatsApp per fare le segnalazioni. Anzi, invitiamo non solo i cittadini, ma in questo caso specifico anche l'istituto e anche i piccoli perché come oggi ci hanno fatto notare durante le pulizie hanno un occhio sempre attento ai vari aspetti. Sulle utenze resta sempre alto il livello di attenzione per cercare di ottimizzare soprattutto l'uso parsimonioso, quello che si dice il governo del buon padre di famiglia, anche della buona madre di famiglia, cioè stare attenti a quelle risorse che ci aiutano, ci aiutano a ridurre i costi e possono farci procedere al meglio. Entrando nel vivo dei progetti ce ne sono di varie specifiche, ci sono quelli gestiti direttamente dal comune, quelli gestiti direttamente dalla scuola, poi progetti invece a carico del comune e invece le spese di funzionamento e oppure il potenziamento di risorse. Questi per quanto riguarda una parte di uscita, mentre poi ci sono una piccola porzione di spese rimborsate dallo Stato, che sono quelle relative alla mensa per gli insegnanti e alla Tari. Nel merito, i progetti gestiti dal comune, come abbiamo notato, il totale stimato per questa porzione è aumentato. È aumentato, è riportato quello dell'anno precedente, perché effettivamente abbiamo sempre una richiesta e un'esigenza di incrementare la parte relativa agli educatori professionali, proprio per situazioni di disagio, di certificazioni, di assistenza che tutti gli studenti di un certo tipo devono ricevere. Adesso si sta cercando anche di sviluppare una sorta di mini classi come educatori di alunni che possano così giovare del reciproco aiuto, sempre coadiuvati dall'educatore. Quindi fare in modo che non sia proprio un rapporto uno a uno, perché possa dare dei risultati più efficaci proprio per gli studenti. Perché non sempre il ragazzo assistito da un solo educatore ha dei risultati ottimali. Ecco, gli altri invece sono gli spazi sempre rispetto agli operatori. Ah, il grande progetto di let's play per la scuola sia primaria che dell'infanzia e il percorso sul quale abbiamo insistito da diversi anni, il progetto di educazione all'affettività, che va a incrementare ulteriormente quello che già si porta avanti poi con i progetti gestiti dalla scuola. Quindi abbiamo ritenuto importante far conoscere e insistere su questo punto, proprio perché non sia il focus sull'educazione alla sessualità, che è per quanto una parte importante, però stiamo parlando di bambini, dai 6 ai 10 per il ciclo primario e poi fino ai 14 per il secondario, è importante che capiscano quello che magari li fa star male, che li fa comportare in un determinato modo e magari hanno difficoltà a reagire, a rispettare le regole, nell'ambito proprio di una condivisione di affetti più che di pulsioni sessuali. Per questa ragione il contributo va a completare quel progetto di cui vi dicevo, che troviamo proprio dentro i progetti gestiti direttamente dalla scuola, dove abbiamo gli obiettivi di integrazione e qualità dell'offerta. Sempre pregnante è il contributo per la psicopedagogia, le ore non bastano mai e se anche qui mettessimo tutto il POF cerchiamo di ottimizzare quelle che sono il monte ore messo a disposizione, però sappiamo che è una richiesta proprio delle insegnanti di mantenere costante questo aspetto. Continua il progetto della scuola bottega e quindi con i laboratori di falegnameria e di ceramica, prosegue l'ortodidattico in tutti i plessi, poi abbiamo sempre una continuità anche sul cyberbullismo perché sono temi richiesti dalla scuola perché sono di estrema attualità, così come è stato richiesto anche il progetto di teatralità un po' connesso in una versione più avanzata rispetto a quello di affettività. Rientra il progetto Microstoria, vi ricorderete l'anno precedente era stato sospeso a vantaggio di maggiori ore di psicopedagogia e in questo siamo contenti perché insomma uno studio del territorio approfondito dalle piccole, dalle carte.